Uno scandalo di corruzione travolge il governo in Georgia. Il premier Irakli Garibashvili ha sollevato dall'incarico il capo della difesa, Irakia Lasagna, dopo l'avvio di diverse indagini a carico di alti funzionari del ministero della difesa accusati di corruzione. La seconda testa a cadere è stata quella della responsabile degli esteri, Maya Pancicchi, che si è dimessa.